Ciao ragazzi Ciao donno Come stai? Io benissimo Ciao ragazzi si è anche molto molto benissimo Comunque noi dovremmo fare la guerra E lo sapete perchè? Perchè ci hanno rubato dei soldi tutte quelle gang Del Kazakistan Ah quindi noi dovremmo fare la guerra mondiale Vabbè Andiamo Vabbè su dai andiamo Ok Ora vediamo l'unico Su mia sfida Secondo le antiche leggi del combattimento Ci incontriamo qui sul terreno scelto Per stabilire una volta per tutte Chi dovrà comandare sui Five Points Sì Bill Fammi uno spirito Seguro che uccidiamo subito Sì Bill Sì Bill Sì Bill Sì Bill Sì Bill Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.